I Granata guidati da Giancarlo Betta vincono la sesta partita consecutiva e incorciano ancora di più dalle dirette concorrenti, sia per la griglia dei play-out che per la salvezza diretta. Con il più classico dei risultati a fare le spese dell'Uragano Granata, ieri in maglia bianca, è stata la formazione campana dell'Agropoli, letteralmente spassata via grazie a due golle nel primo quarto d'ora che hanno messo in chiaro sin da subito la voglia e la forza di un Noto che adesso sa soltanto vincere. Al terzo Noto già in vantaggio, Troiano batte un calcio d'angolo, Mautone è il più alto di tutti a svettare in area ospite e manda alle spalle dell'incolpevole, Capozzi. Festa per i giocatori Granata. Al settimo Merito fa le prove generali per il gol. Colpo di testa di Trimarco, girata del colombiano, Capozzi respinge così. Gol che, come abbiamo detto, arriva al quattordicesimo. Troiano apre sulla sinistra per Intelisano. Cross preciso per la corrente Merito, colpo di testa e palle alle spalle di Capozzi e corsa verso il settore dei tifosi Ultras del Noto. La reazione ospite è affidata ad alcune azioni personali di Ragosta e di Mallardo. Il cross del terzino sinistro chiama alla respinta di Pugni Vezzali ma l'arbitro aveva già fermato il gioco. Poi è Mallardo al diciottesimo a provare una sortita solitaria. Salta così Nigro il suo cross al centro. È facile preda per Vezzali. Ventitreesima punizione di Ragosta. Parte bassa del palo e poi sulla ribattuta Sosero manda incredibilmente alto. Al trentacinquesimo vibranti proteste della formazione ospite per questo intervento di Intelisano sul numero sette Sosero. Proteste perché i giocatori in maglia blu avrebbero voluto un rigore ma l'arbitro non ha considerato falloso l'intervento di Intelisano. Ultimo squillo del noto. Accetta e viene fermato così dallo stesso Sosero ma l'arbitro poi non farà in tempo a far battere il calcio di punizione decretando la fine dell'ostilità per la prima frazione e mandando tutti sotto gli spogliatoi. Con le immagini curate da Salvo Lentini passiamo al secondo tempo. Subito noto che prova questo lancio con Troiano ma poi un buon quarto d'ora per la formazione ospite. Colpo di testa al decimo di Mallardo para Vezzani. Al dodicesimo Pignatta si libera così del diretto marcatore e lascia partire un sinistro che fa la barba al pallo della porta campana. Ancora noto colpo di testa qui di Astarita esce in presa alta Capozzi. Si fa preferire l'Agropoli nella seconda frazione. Ci prova da lontano ma Vezzani trasmette quella sicurezza che era mancata al noto soprattutto nel girone di ritorno non sbagliando nemmeno un'uscita. Eccola qui un'altra bella parata del portiere Vezzani. Calcio d'angolo calciato da Aragosta. Palla che arriva in area granata. Vezzani esce di pugno, subisce fallo e si riprende con un calcio di punizione. Qui azione del numero 17 che prova a scalfire la porta di Vezzani ancora bravissima a mandare in angolo. Ultima sortita offensiva per il noto. Merito viene messo a terra. Protesta con un proprio compagno. L'arbitro pensa bene di estrarre il secondo cartellino giallo e espelle il calciatore granata. Dopo quattro minuti di recuperi lo stesso arbitro manda tutti sotto la doccia. Il noto può festeggiare la sesta vittoria consecutiva.